cari amici giovani e meno giovani un saluto da gabri costa volevo dirvi una cosa molto bella una cosa molto eccezionale voi dovete sapere che questo videogioco si chiama marvel vs capcom fighting collection arcade classics ci sono tanti arcade classici degli anni passati che avevate trovato nelle sale giochi ma adesso lo troverete li troverete tutti qui questa è una bella sorpresa ricordatevi che marvel vs capcom fighting collection è uscito il 12 settembre 2024 andiamo a vedere com'è fatto questo è il menu principale di marvel vs capcom fighting collection potete fare la modalità offline potete visualizzare le gallerie di artwork e ascoltare le musiche di sottofondo dei giochi visto che c'è il museo poi ci sono le medaglie dovete visualizzare le sfide i progressi di gioco poi ci sono anche le opzioni dovete modificare le impostazioni di gioco bene vi ho spiegato il menu principale se il video vi è piaciuto condividetelo mettete un mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti